Un lieve bussare alla porta, il rumore di un oggetto posato sul pavimento, una voce timida. «Sono le cinque e mezzo, è appena suonata la prima campana della messa!» Maigret si sollevò sui gomiti facendo cigolare la rete del letto e, mentre osservava con stupore la finestrella che si apriva sul tetto spiovente, la voce riprese. «Deve fare la comunione?» Il commissario Maigret si alzò e, camminando a piedi nudi sul pavimento gelido, andò verso la porta che si chiudeva con una cordicella assicurata due chiodi. Udì dei passi che si allontanavano e fece appena in tempo a scorgere nel corridoio una figura femminile in camiciole sotto veste bianca. Allora raccolse la brocca d'acqua calda che Maritta Ten gli aveva portato, chiuse la porta e cercò uno specchio per radersi. Alla candela restavano solo pochi minuti di vita. Al di là della finestrella era ancora nottefonda, una fredda notte di primo inverno. Nella piazza principale, dai rami dei pioppi, pendeva ancora qualche foglia morta. Il tetto era spiovente su due lati e Maigret poteva stare in piedi solo al centro della mansarda. Aveva freddo. Per tutta la notte uno spiffero di cui non era riuscito a individuare l'origine gli aveva gelato la nuca ed era proprio quel genere di freddo a turbarlo, immergendolo in un'atmosfera che credeva di avere dimenticato. La prima campana della messa, i rintocchi nel villaggio addormentato. Da bambino Maigret non si alzava così presto, aspettava il secondo rintocco, quello delle sei meno un quarto, perché allora non aveva bisogno di radersi. Forse non si lavava nemmeno la faccia. Non gli portavano certo l'acqua calda e capitava che l'acqua gelasse nella brocca. Poco dopo i suoi passi risuonavano sulla strada indurita dal ghiaccio. Ora, mentre si vestiva, sentiva l'andirivieni di Maritatè nella sala da pranzo della locanda. La sentiva scuotere la griglia della stufa, armeggiare coi piatti, macinare il caffè. Indossò la giacca e il cappotto. Prima di uscire prese dalla cartella un foglio che portava la dicitura Polizia Municipale di Moulin, trasmesso per ogni evenienza alla Polizia Giudiziaria di Parigi. Il foglio era a quadretti, la scrittura diligente. Vi informo che nella chiesa di Saint-Fiacre, durante la prima messa del giorno dei morti, sarà commesso un delitto. Per diversi giorni il documento era passato da un ufficio all'altro del Ché des Orfevres. Maigret, che l'aveva notato per caso, si era meravigliato. Saint-Fiacre vicino a Matignon? È probabile perché ci arriva da Moulin. Saint-Fiacre vicino a Matignon. e Maigret se l'era infilato in tasca. Saint-Fiacre, Matignon, Moulin, nomi che gli suonavano familiari come nessun altro. Lui era nato a Saint-Fiacre, dove per trent'anni suo padre era stato l'intendente del castello. L'ultima volta c'era andato proprio per la morte del padre che era sepolto là, nel piccolo cimitero dietro la chiesa. Durante la prima messa sarà commesso un delitto. Maigret era arrivato il giorno prima. Aveva preso alloggio nell'unica locanda, quella di Maritatin. Lei non l'aveva riconosciuto, ma lui sì, per via degli occhi. La bambina con gli occhi storti, come la chiamavano allora. Una bambina gracile, che si era trasformata in una zitella ancora più magra, con gli occhi sempre più storti e che si agitava senza sosta, nella sala da pranzo, in cucina e nel cortile, dove allevava coniglie e galline. Il commissario scese. Giù da basso l'illuminazione era a petrolio. Marie aveva apparecchiato in un angolo. Una pagnotta grigia, l'odore del caffè di cicoria, il latte bollente. Fa male a non comunicarsi in un giorno come questo, tanto più che si prende il disturbo di andare alla prima messa. Dio mio, già la seconda campana. La voce della campana era flebile. Si udirono dei passi nella strada. Maritatin scappò in cucina per infilarsi il vestito nero, i guanti di filo e il cappellino che stava tutto storto per via della crocchia. Finisca pure di mangiare, ma chiuda la porta chiave. Vengo con lei, sono pronto. Fare la strada in compagnia di un uomo, un uomo che veniva da Parigi per di più. Marie si sentiva a disagio e camminava a passi rapidi e brevi piegate in avanti nel freddo del mattino. Le foglie morte svolazzavano e il loro secco frusciare rivelava che durante la notte era gelato. Altre ombre convergevano verso il vacuo chiarore che proveniva dalla porta della chiesa. Le campane continuavano a suonare. Qua e là, sulle facciate delle case, tutte a un solo piano, una finestra illuminata. Qualcuno si stava vestendo in fretta per la prima messa. E Megret riassaporava le sensazioni di un tempo. Il freddo, gli occhi che bruciano, le dita gelate e in bocca il sapore del caffè. Poi, entrando in chiesa, un'ondata di calore e di morbida luce. L'odore dei ceri, dell'incenso. «Lei mi scuserà, ho il mio inginocchiatoio», disse lei. E Megret riconobbe la sedia nera, coi braccioli di velluto rosso della vecchia Tatin, la madre della bambina, con gli occhi storti. La corda che il campanaro aveva appena lasciato andare oscillava ancora in fondo alla chiesa. Il sacrestano accendeva gli ultimi ceri. In quanti erano a quella riunione di fantasmi assonnati? Quindici al massimo e solo tre uomini. Il sacrestano, il campanaro e Megret. Sarà commesso un delitto. La polizia di Moulin aveva pensato a uno scherzo di cattivo gusto e non se n'era data pena. A Parigi la partenza del commissario aveva stupito tutti. Dalla porta a destra dell'altare provenivano dei rumori e Megret poteva intuire momento per momento ciò che stava accadendo. La sacristia, il chiarichetto in ritardo, il parroco che senza dire una parola si infilava la pianeta, congiungeva le mani e si dirigeva verso la navata seguito dal ragazzino che incespicava nella veste. Il ragazzino aveva i capelli rossi. Scosse il campanello. Il brusio delle preghiere liturgiche ebbe inizio. Durante la prima messa. Megret aveva scrutato una dopo l'altra tutte le ombre. Cinque vecchie, tre delle quali avevano un inginocchiatoio privato. L'imponente moglie di un fattore, alcune giovani contadine e un bambino. Fuori il rombo di un'auto, il cigolio di una portiera. Passi rapidi, leggeri. Una signora in lutto attraversò tutta la chiesa. Nel coro c'era una fila di stalli riservati agli abitanti del castello. Stalli rigidi, in vecchio legno levigato. La signora vi prese posto silenziosamente, seguita dagli sguardi delle contadine. Forse Megret sarebbe stato ancora capace di rispondere al sacerdote. Sorrisi al pensiero che un tempo preferiva le messe funebri alle altre perché le orazioni sono più brevi. Si rammentava di messe celebrate in sedici minuti. Ma già aveva distolto lo sguardo dalla signora che occupava lo stallo gotico e di cui intravedeva appena il profilo. Stentava a riconoscere in lei la contessa di Saint-Fiacre. Eppure era proprio lei. Ma quando l'aveva vista l'ultima volta non aveva più di 35 o 36 anni. Era una donna alta, sottile, malinconica, che la gente del paese scorgeva ogni tanto da lontano nel parco. e ora doveva avere 60 anni passati. Pregava con fervore. Aveva il volto emaciato e stringeva il messale fra le mani troppo lunghe e sottili. Megret era rimasto nell'ultima fila delle sedie di paglia. Quelle che durante la messa solenne costano 5 centesimi ma sono gratuite durante le messe basse. Sarà commesso un delitto. Al primo Vangelo si alzò insieme agli altri. La sua attenzione era attirata da mille particolari e i ricordi lo assalivano. Come questo che gli balenò all'improvviso. Nel giorno dei morti il sacerdote celebra tre messe. Ai suoi tempi, nell'intervallo fra la seconda e la terza messa, mangiava un boccone dal parroco, un uovo alla coque e del formaggio di capra. La polizia di Molin aveva ragione. Non ci sarebbe stato alcun delitto. Il sacrestano si era seduto in uno degli stalli in fondo, quattro posti oltre la contessa, e il campanaro era uscito a passi pesanti, come un impresario che non si curi di assistere al suo spettacolo. Non erano rimasti altri uomini all'infuori di Maigret e del sacerdote. Un giovane sacerdote che aveva lo sguardo ardente di un mistico. Lui non cercava di sbrigarsela in fretta come il parroco che Maigret aveva conosciuto. Non saltava metà dei versetti. Le vetrate impallidirono. Fuori faceva giorno. Lontano nella campagna si udì un mugito. Il flebile campanello del chiarichetto tintinnò e tutti chinarono il capo per l'elevazione. Maigret fu l'unico a non fare la comunione. Tutte le donne avanzarono verso la balaustra con le mani giunte e il volto inespressivo. Le ostie, tanto diafane da sembrare irreali, passavano per un istante nelle mani del sacerdote. La messa proseguì. La contessa teneva ancora il viso fra le mani. Le dita della vecchia signora si schiusero svelando un viso segnato dalla sofferenza. Aprirono il messale. Ancora quattro minuti. Le preghiere, l'ultimo Vangelo e poi la fine. E non ci sarebbe stato alcun delitto. Perché l'avvertimento era chiaro. La prima messa. Lo scaccino si alzò e rientrò nella sacristia. Era proprio finita. La contessa di Saint-Fiacre teneva ancora la faccia tra le mani. Era rigida, immobile come la maggior parte delle altre vecchie. I temi sa est. La messa è finita. Solo allora Megre capì quanto era stato angosciato. Quasi non se ne era reso conto. Senza volerlo sospiro di sollievo. Aspettò con impazienza la fine dell'ultimo Vangelo pensando che fuori avrebbe respirato l'aria fresca, si sarebbe mescolato alla gente e ne avrebbe ascoltato le chiacchiere. Le vecchie si ridestarono tutte insieme. I loro piedi si mossero sulle fredde mattonelle azzurre della chiesa. Due contadine si diressero verso l'uscita una dietro l'altra. Il sacristano comparve con uno spegnetoio e la fiamma delle candele lasciò posto a un filo di fumo azzurrino. Ormai era giorno quando la porta si apriva. Una luce grigiastra penetrava nella navata insieme a folate di aria fredda. Ancora tre persone. Due. Qualcuno spostò una sedia. Rimaneva solo la contessa e Maigret ebbe un fremito di impazienza. Il sacristano che aveva concluso il suo compito gettò uno sguardo alla signora di San Fiacre e un'espressione dubbiosa gli si dipinse sul volto. In quel medesimo istante il commissario avanzò. Giunti accanto a lei rimasero entrambi stupiti di quell'immobilità e cercarono di vedere il volto che le mani giunte continuavano a nascondere. Turbato Maigret le sfiorò una spalla. Il corpo vacillò come se fino a quel momento fosse stato sorretto da un filo. Poi rotolò a terra e rimase inerte. La contessa di San Fiacre era morta. Trasportato in sacristia il corpo era stato steso su tre sedie accostate. Il sacristano era uscito di corsa per andare a chiamare il medico del villaggio. E Maigret che non si rendeva conto di quanto la sua presenza fosse strana impiegò parecchi minuti a cogliere la domanda carica di sospetto che si celava nello sguardo febbrile del sacerdote. Lei chi è? Gli chiese infine e come mai? Commissario Maigret della polizia giudiziaria. Guardò il parroco negli occhi. Era un uomo di 35 anni dai lineamenti irregolari ma così austeri da ricordare la fede indomita dei monaci di altri tempi. Era visibilmente turbato. La voce gli tremò mentre mormorava. Intende forse dire che... Non avevano ancora osato svestire la contessa. Si erano limitati a posarle uno specchio sulle labbra e ad auscultarle il cuore che non batteva più. Non mi pare che ci siano ferite si limitò a rispondere Maigret e nel frattempo si guardava intorno. Tutto era rimasto identico lì dentro. In trent'anni non un solo particolare era cambiato. Le ampolle erano al posto di sempre. La pianeta pronta per la messa successiva come pure la veste e la cotta del chierichetto. La scialba luce che penetrava da una finestra ogiva diluiva i raggi di una lampada a olio. Faceva al tempo stesso caldo e freddo. Il sacerdote era assalito da pensieri orribili. Comunque non si può ritenere un dramma. Dapprima Maigret non capì, ma i ricordi d'infanzia continuavano ad affiorare come bolle d'aria. Una chiesa in cui è stato commesso un delitto deve essere nuovamente consacrata dal vescovo. Com'era possibile parlare di delitto? Non si erano uditi spari. Nessuno si era avvicinato alla contessa. Per tutta la messa Maigret non le aveva praticamente tolto gli occhi di dosso. E non una goccia di sangue. Non una ferita visibile. La seconda messa è alle sette, vero? Fu un sollievo sentire il passo pesante del medico. Un tipo sanguigno che, sconcertato dall'atmosfera, guardò alternativamente il commissario e il parroco. Morta, chiese. Lui ad ogni modo non ebbe esitazioni e le sbottonò il corpetto, mentre il sacerdote distoglieva lo sguardo. Si dirono dei passi nella chiesa. Poi la campana che suonava distesa. Il primo annuncio della messa delle sette. Solo un emboliapo. Non ero il medico di fiducia della contessa, che preferiva farsi curare da un collega di Moulin, ma mi hanno chiamato due o tre volte al castello, ma aveva il cuore piuttosto malandato. La sagrestia era angusta. I tre uomini e il cadavere ci stavano appena. Arrivarono due chierichetti. Quella delle sette era una messa solenne. «La macchina sarà ancora qui fuori», disse Maigret. «Bisogna trasferirla al castello». Continuava a sentire su di sé lo sguardo angosciato del sacerdote, che avesse intuito qualcosa. Sta di fatto che, mentre il sacrestano trasportava il corpo nell'automobile con l'aiuto dell'autista, egli si avvicinò al commissario. «E' sicuro che...» «Devo ancora dire due messe. È il giorno dei morti. I miei fedeli sono...» Visto che la contessa era morta di embolia, Maigret non aveva forse il diritto di rassicurare il parroco. Ha sentito quello che ha detto il medico, no? «Eppure lei oggi è venuto qui e proprio a questa messa...» Maigret si sforzò di non apparire turbato. «È solo un caso, signor parroco. Mio padre è sepolto nel vostro cimitero». E affrettò il passo verso l'automobile un vecchio coupé a manovella che l'autista stava mettendo in moto. Il medico non sapeva che fare. C'era della gente lì in piazza e nessuno capiva che cosa stesse accadendo. «Venga con noi». Ma il cadavere occupava tutto il sedile, e Maigret e il medico dovettero stringersi da un lato. «Sembra sorpreso di quello che le ho detto», mormorò il medico, che non aveva ancora del tutto recuperato il suo sangue freddo. «Se conoscesse la situazione forse capirebbe». La contessa tacque, lanciando uno sguardo in direzione dell'autista in livrea nera che guidava con aria assente. Stavano attraversando il lieve pendio della piazza principale, delimitata dalla chiesa eretta sul di Clivio e dallo stagno di Notre-Dame, che quel mattino era di un colore grigio piombo. La locanda di Maritatè era la prima casa del paese sulla destra. A sinistra c'era un viale fiancheggiato da querce e, in fondo, la massa scura del castello. Un cielo uniforme, freddo come una lastra di ghiaccio. «Ne verrà fuori un dramma, sa? È per questo che il parroco ha fatto quella faccia». Il dottor Bougiardon era un contadino figlio di contadini. Portava un abito da caccia marrone e alti stivali di gomma. Stavo per andare a caccia di anatre negli stagni. «Non va, mes». Il dottore ammiccò. Il che sia chiaro non mi impediva di frequentare il vecchio parroco, ma questo qui... Stavano entrando nel parco. Ora potevano distinguere i particolari del castello. Le finestre del pianterreno con le imposte chiuse e le due torri d'angolo. Le sole parti antiche dell'edificio. Quando la macchina si fermò davanti alla scalinata, McGray gettò uno sguardo attraverso le finestre munite di grata del seminterrato e intravide le cucine piene di vapore dove un donnone stava spennando delle pernici. L'autista non sapeva che cosa fare e non osava aprire le portiere dell'automobile. «Il signor Jean non si sarà ancora alzato. Chiami qualcuno. Ci sono altri domestici nella casa?» McGray aveva le narici umide. Faceva davvero freddo. Rimase nel cortile insieme al medico che cominciò a riempirsi la pipa. «Chi è il signor Jean?» Bujardin alzò le spalle accennando uno strano sorriso. «Lo vedrà lei stesso. Insomma, chi è? Un giovanotto, un simpatico giovanotto. Un parente, in un certo senso, a modo suo. Beh, tanto vale che glielo dica subito. È l'amante della contessa. Ufficialmente è il suo segretario.» McGray guardò il dottore negli occhi. Adesso ricordava. Erano stati a scuola insieme. Accidenti! Nessuno in paese pareva riconoscerlo. Aveva 42 anni e aveva messo su pancia, ma insomma, diamine! Il castello. Nessuno lo conosceva meglio di lui, soprattutto le dipendenze. Pochi passi e avrebbe visto la casa dell'intendente dove era nato. Forse erano proprio quei ricordi atturbarlo tanto. E soprattutto l'immagine della contessa di Senfiacre, così come l'aveva conosciuta. Una giovane donna che incarnava ai suoi occhi di bambino del popolo la quintessenza della femminilità, della grazia, della nobiltà. Era morta. L'avevano buttata nell'automobile come una cosa inerte. Avevano dovuto piegarle le gambe. Nessuno si era preoccupato di riabbottonarle il corpetto e dal nero dell'abito da lutto sbucava il candore della biancheria. Sarà commesso un delitto. Ma il medico sosteneva che era morta di embolia. Quale demiurgo avrebbe potuto prevederlo e perché poi convocare la polizia? Dentro il castello rumore di gente che correva, di porte che si aprivano e si chiudevano. Un maggiordomo che si stava ancora infilando la livrea si affacciò all'ingresso principale senza osare farsi avanti. Dietro di lui un uomo in pigiama con i capelli in disordine e gli occhi cerchiati. Che succede? gridò. Il mantenuto, bofonchiò cinicamente il medico all'orecchio di Maigret. La notizia doveva essere arrivata anche alla cuoca, che dalla finestra del seminterrato guardava in silenzio. Sotto il tetto, dove si trovavano le camere degli domestici, si aprivano degli abbaini. Si può sapere cosa aspettano a portare la contessa nel suo letto, tuo nome gre indignato. Tutto ciò gli sembrava un sacrilegio perché strideva con i suoi ricordi d'infanzia e il malessere che provava non era solo morale, ma fisico. Sarà commesso un delitto. Il secondo rintocco della messa. La gente si stava di certo affrettando. C'erano fattori che arrivavano da lontano sui loro carri e avevano portato i fiori da deporre sulle tombe del cimitero. Jeanne non osava avvicinarsi. Il maggiordomo che aveva aperto la portiera se ne stava lì, sconvolto e come paralizzato. «La signora contessa, la signora...» balbettava. «Insomma, vuole lasciarla sull'auto, eh?» «Perché diavolo il dottore aveva quel sorriso ironico». Maigret prese in mano la situazione. «Forza, due uomini! Lei!» indicò l'autista. «E lei!» indicò il domestico. «Portatela nella sua stanza!» Mentre i due uomini si chinavano verso l'automobile, nell'atrio squillò il telefono. «Il telefono? Strano a quest'ora!» borbottò Bujordan. Jeanne non si decideva ad andare a rispondere. Sembrava inebetito. Fu Maigret a precipitarsi in casa e a sollevare il ricevitore. «Pronto? Sì, qui è il castello. È una voce vicinissima.» «Mi passi mia madre, per favore. Deve essere tornata dalla messa.» «Chi parla?» «Il conte di Sanfiacre. Comunque non sono affari suoi. Mi passi mia madre.» «Un momento. Scusi, da dove sta chiamando?» «Da Moulin. Ma insomma, le ho detto di...» «Venga, sarà meglio.» Si limitò a dire Maigret mentre riagganciava. E fu costretto ad addossarsi al muro per lasciar passare i due domestici che trasportavano il cadavere. Maigret